Respirerò Salve, continuiamo l'analisi delle sovrattenzioni cominciata nel video le sovrattenzioni prima parte, video che ovviamente diamo per acquisito. Il coordinamento dell'isolamento ha l'obiettivo di evitare o quantomeno di limitare i danni dovuti alle sovrattenzioni che interessano gli impianti e gli apparecchi elettrici e si attua secondo tre grandi linee. Si realizza cioè l'isolamento dei vari componenti elettrici in grado di sopportare senza scaricare, quindi evidentemente senza danni, le sovrattenzioni di origine sia esterna che interna fino a determinati valori limite di tensione. I valori limite di tensione, diciamolo subito, sono stabiliti dalla normativa CEI e sono rappresentati, come vedremo, dalle cosiddette tensioni di tenuta. Le tensioni di tenuta sono diverse per sistemi elettrici in alta tensione e per impianti elettrici di bassa tensione. A secondo punto del coordinamento dell'isolamento vi è che si adottano particolari provvedimenti di carattere preventivo finalizzati a ridurre l'entità delle sovrattenzioni dovute sia a cause interne che a quelle atmosferiche. Fra questi provvedimenti, come vedremo, vi sono le funi di guardia per le linee aeree in conduttore in ulio, la messa a terra del neutro, i regolatori di tensione degli alternatori ed altri provvedimenti. Al terzo punto vi è che si impiegano gli scaricatori di sovrattenzione, che vengono chiamati anche limitatori di sovrattenzione, che intervengono nel caso di sovrattenzioni di valore maggiore rispetto alle tensioni di tenuta dei componenti elettrici. L'intervento degli scaricatori, come vedremo, consiste in una scarica che convoglia a terra l'onda di sovrattenzione, proteggendo in questa maniera le apparecchiature a valle. Consideriamo adesso le tensioni di tenuta per sistemi elettrici in media ed alta tensione. Come abbiamo detto, l'isolamento dei vari componenti elettrici deve essere capace di sopportare, senza scaricare, le sovrattenzioni fino ai valori delle tensioni di tenuta. Per sistemi elettrici funzionanti in corrente alternata trifase con tensione superiore ad 1 kV, le tensioni di tenuta sono stabilite dalla normativa, in particolare dalla CI285 e CI284. Nelle tabelle riportate nelle successive slide, ci sono proprio i valori di queste tensioni di tenuta in funzione della tensione massima per l'apparecchiatura UM. La tensione UM, diciamolo subito, è definita come il valore efficace più elevato della tensione fra le fasi per la quale l'apparecchiatura è progettata per quanto riguarda il suo isolamento. Le tabelle, come vedremo, sono due e sono relative a due serie nelle quali è stata suddivisa questa tensione massima UM. E precisamente la serie 1, serie 1, è caratterizzata da un UM maggiore di 1 kV e minore o uguale di 245 kV. L'altra tabella, riguardante la serie 2, è relativa a un UM maggiore di 245 kV. In questa slide è riportata la tabella relativa alla serie 1. Come si vede, ci sono tre colonne. La prima colonna riporta i valori della tensione massima per l'apparecchiatura UM. In corrispondenza di questi valori, nelle altre due colonne, vi sono, in questa colonna, la tensione di tenuta normalizzata di breve durata a frequenza industriale in kV efficaci e, nell'altra colonna, i valori della tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di origine atmosferica in kV di picco. I valori delle tensioni di tenuta, che sono indicate appunto in queste due colonne e che appartengono alla stessa riga, individuano il cosiddetto livello di isolamento normalizzato dell'apparecchiatura da utilizzare. Infatti, in questa tabella, nel titolo, troviamo livelli di isolamento normalizzati. Ad esempio, con un'apparecchiatura, diciamo, caratterizzata da una UM di 52 kV, il livello di isolamento corrispondente è 95 kV slash 250. Infatti, a 52 kV corrisponde 95 per quanto riguarda la tensione di tenuta normalizzata a frequenza industriale e 250 per quanto riguarda la tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di origine atmosferica. Questi due valori individuano, per l'appunto, il livello di isolamento. Quando in una riga sono riportati più valori, quelli più elevati sono relativi ad una maggiore severità delle condizioni ambientali di installazione dell'apparecchiatura. In questi casi, per la stessa riga, si ottengono più livelli di isolamento possibili, tra i quali scegliere quello che dovrà garantire l'apparecchiatura che si intende utilizzare. Per esempio, con UM pari a 17,5 kV, i livelli di isolamento possibili sono due, 38 kV slash 75 kV e 38 kV slash 95 kV. Infatti, a 17,5 kV corrisponde 38 per quanto riguarda la tensione di tenuta normalizzata a frequenza industriale, ma due valori per quanto riguarda la tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di origine atmosferica, e cioè 75 e 95. E quindi, il livello di isolamento è 38 e 75, e l'altro livello di isolamento è 38 e 95. Se, ad esempio, si prevede l'installazione in una zona ad elevata probabilità di fulminazione, tra i due livelli di isolamento, si sceglierà appunto un'apparecchiatura che garantisca questo livello di isolamento, 38 kV slash 95, proprio perché abbiamo detto che i valori più elevati sono relativi ad una maggiore severità della condizione ambientale. E quindi 95 è sicuramente più elevato di 75 kV. In questa slide è riportata la tabella relativa alla serie seconda, che corrisponde ad OM maggiori di 245 kV. Infatti, nel titolo della tabella troviamo livelli di isolamento normalizzati per la serie seconda, ovviamente c'è riferimento alla norma CEI 28.5, la prima colonna è quella relativa ai valori della OM, e poi abbiamo, in questo caso, la tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di manovra, e quindi abbiamo, con relative due colonne, l'isolamento fase Terra a kV di picco, e poi isolamento fra le fasi kV di picco. E poi abbiamo una terza colonna, che è la tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di origine atmosferica in kV di picco. Per esempio, se noi abbiamo una OM pari a 300 kV, abbiamo come valori delle tensioni di tenuta 750, 1125, e poi due possibili valori per le tensioni di tenuta normalizzate agli impulsi di origine atmosferica, 850 e 950. E ancora altri valori, 850 e 1275, e due valori, sempre per la tensione di tenuta normalizzata agli impulsi di origine atmosferica. È da notare che la OM parte da 300, poi l'altro valori sono 362, 420, 550, 800 kV efficaci. Accenniamo alle prove di isolamento per apparecchiature impiegate in media tensione e alta tensione. Come abbiamo detto, l'isolamento dei vari componenti elettrici deve essere capace di sopportare senza scaricare le sovrattenzioni proprio fino ai valori delle tensioni di tenuta. Di conseguenza, in fase di collaudo dei componenti elettrici, si effettuano delle prove, che vengono chiamate prove dielettriche, per verificare proprio questa capacità. Queste prove, ovviamente, si effettuano in appositi laboratori e si effettuano seguendo le modalità stabilite dalla normativa e sottoponendo l'isolamento ai valori delle tensioni di tenuta che sono indicate proprio nelle tabelle che abbiamo presentato prima per i sistemi in media e alta tensione. In definitiva, le prove di isolamento sono prove di tenuta a frequenza industriale, quindi compresa fra 48 e 62 Hz, con forma d'onda sinusoidale e per la durata di un minuto. Poi si effettuano prove di tenuta ad impulso atmosferico con una forma d'onda dell'onda di sovrattenzione 1,2-50 microsecondi e prove di tenuta ad impulso di manovra con forma d'onda 250-2500 microsecondi. Passiamo alle tensioni di tenuta per impianti utilizzatori di bassa tensione. Per la protezione dalle sovrattenzioni transitorie di origine atmosferica o dovute a manovre nell'ambito degli impianti utilizzatori di bassa tensione si applicano le prescrizioni della norma CEI 64.8 e in particolare delle parti 4 e 5 di questa norma. I componenti elettrici per bassa tensione in relazione al loro isolamento vengono classificati in categorie in base alla loro tensione cosiddetta di tenuta all'impulso UW. La tensione di tenuta all'impulso UW rappresenta il massimo valore di tensione all'impulso sopportabile dall'isolamento del componente senza danneggiarsi. Le categorie vanno dalla prima alla quarta con valori crescenti di tenuta all'impulso come vedremo in dettaglio. Nella slide sono rappresentati alcuni esempi di componenti appartenenti alle diverse categorie per esempio alla categoria prima nella categoria prima abbiamo le apparecchiature con circuiti elettronici per esempio computer, apparecchi, audio video eccetera e come vedremo a questa categoria le tensioni di tenuta sono valori non inferiori a 1,5 kV per quando la tensione dell'impianto è di 230-400 V poi abbiamo la categoria seconda con componenti adatti per esempio ad essere collegati direttamente all'impianto elettrico fissio di un edificio come nel caso di elettrodomestici climatizzatori utensili mobili o trasportabili in questo caso la tensione diciamo di tenuta non deve essere inferiore a 2,5 kV per la categoria 3 come esempio abbiamo componenti che fanno parte degli impianti elettrici fissi di edifici come i quadri di distribuzione gli interruttori automatici oppure no le condutture elettriche i cavi i condotti sbarre le scatole di giunzione le prese a spina eccetera in questo caso abbiamo tensioni di tenuta non inferiori a 4 kV sempre facendo riferimento a tensioni dell'impianto di 230-400 V 230 tensioni di fase 400 V concatenate categoria 4 altri esempi componenti destinati ad essere installati nel punto di origine di un impianto utilizzatore o nelle sue prossimità oppure a monte del quadro di distribuzione principale come per esempio nel caso dei contatori dell'energia elettrica in questo caso le tensioni di tenuta non saranno inferiori ai 6 kV la norma C648-4 stabilisce infatti che il valore nominale della tensione di tenuta all'impulso dei componenti elettrici certi sia non inferiore ai valori indicati in questa tabella e cioè la tabella riporta la colonna della tensione nominale dell'impianto per esempio 230-400 V e poi abbiamo appunto la tensione nominale di tenuta all'impulso richiesta per i componenti elettrici divisa per le diverse categorie categoria 4 componente con tenuta all'impulso molto alta in corrispondenza di questa 230-400 V troviamo 6 kV categoria 3 componente con alta tenuta all'impulso 4 kV categoria seconda componente con normale tenuta all'impulso 2,5 kV e categoria prima componente con ridotta tenuta all'impulso 1,5 kV ad esempio se la tensione come nel caso comune dell'impianto è di 230-400 V i valori della tensione di tenuta all'impulso dei componenti scelti potranno essere quelli indicati in questa figura in relazione alle diverse categorie di appartenenza in particolare esaminiamolo allora abbiamo qui l'origine dell'installazione il confine della proprietà per intenderci con WH intendiamo attore intendiamo il contatore elettrico poi abbiamo il Q il quadro elettrico principale con P intendiamo le prese a spina con un apparecchio utilizzatore qualsiasi con A un'apparecchiatura elettronica allora si individuano appunto le varie categorie diciamo per quanto riguarda la categoria 4 possiamo adottare sicuramente un livello di tensione di tenuta pari a 6 kV poi la categoria 3 abbiamo 4 kV per la categoria 2 la seconda 2,5 kV e per la categoria prima 1,5 kV ad esempio alla categoria prima apparterranno il computer la tv gli elettrodomestici con programmazione elettronica alla categoria seconda apparterranno gli elettrodomestici non elettronici ad esempio alla categoria terza apparterrà il quadro di distribuzione e apparterranno con i relativi interruttori o apparterranno appartenere anche i cavi elettrici le presi a spina e alla categoria 4 apparterrà per essere sicuramente il contatore dell'energia elettrica accenniamo alle prove di isolamento per componenti elettrici impiegati in bassa tensione come abbiamo detto i componenti elettrici per bassa tensione sono caratterizzati dalla loro tensione di tenuta all'impulso Uw che rappresenta il massimo valore di tensione all'impulso sopportabile dall'isolamento senza danneggiarsi di conseguenza per la verifica del valore della tensione di tenuta all'impulso Uw dichiarata dal costruttore del componente in appositi laboratori si effettua una prova di collaudo dell'isolamento che consiste nell'applicazione di una forma d'onda ad impulso standardizzata caratterizzata da 1,2 slash 50 microsecondi con il valore di tensione di tenuta indicato nella tabella che abbiamo già presentato ovviamente la tensione applicata sarà quella relativa alla tensione dell'impianto e quella relativa naturalmente alla categoria diciamo alla quale appartiene il componente elettrico che si sta collaudando esaminiamo gli scaricatori di sovrattenzione per media e alta tensione gli scaricatori per la protezione dalle sovrattenzioni vengono chiamati anche limitatori di sovrattenzione e sono indicati con l'acronimo SPD costruttivamente ci sono vari tipi di scaricatori gli scaricatori spinterometrici sono costituiti da un isolatore su cui sono montate due elettrodi metallici che possono essere del tipo a corna oppure possono essere del tipo ad aste gli elettrodi sono posti ad una distanza di che dipende dalla tensione di innesco questo tipo di SPD viene in prevalenza montato direttamente sulle apparecchiature da proteggere per esempio gli interruttori o i sezionatori oppure i trasformatori in figura sono riportati il simbolo e il principio di funzionamento di uno scaricatore spinterometrico quando la tensione verso terra nel punto A dell'impianto in cui lo scaricatore installato si mantiene ai normali valori di esercizio oppure quando si verifica una sovrattenzione inferiore al livello di isolamento delle apparecchiature protette dallo scaricatore installate a valle per esempio un trasformatore lo scaricatore si comporta come un circuito aperto e mantiene l'isolamento tra il conduttore di linea e la terra grazie allo strato d'aria che è presente fra i due elettrodi quando arriva invece una sovrattenzione superiore al livello di isolamento dell'apparecchiatura protetta avviene che la differenza di potenziale tra il punto A e la terra supera la tensione d'innesco del dispositivo e tra gli elettrodi si manifesta una scarica sostanzialmente un arco elettrico che convoglia a terra l'onda di sovrattenzione proteggendo in questa maniera le apparecchiature a valle quando la tensione poi ritorna ai valori normali lo scaricatore deve essere in grado di spegnere questo arco elettrico e deve quindi ripristinare l'isolamento verso terra del conduttore di linea in definitiva lo scaricatore in servizio normale si comporta come un isolatore e tale deve ritornare dopo aver svolto il suo compito cioè dopo aver scaricato a terra la sovrattenzione durante il passaggio della corrente di scarica IS la tensione verso terra VA del punto A è data dalla somma fra la tensione VS propria propria dello scaricatore corrispondente alla corrente IS e della tensione VT della presa di terra dovuto alla caduta di tensione della resistenza di terra RT percorsa proprio dalla corrente di scarica IS in definitiva cioè VA sarà uguale a VS più VT e VT sarà uguale a RT per IS considerato che la tensione VA è applicata alle apparecchiature a valle il livello di isolamento di queste apparecchiature deve essere tale da sopportarle questa tensione VA cioè deve essere superiore alla VA la tensione VA è comunque molto inferiore alla sovrattenzione che è stata scaricata e quindi rappresenta di conseguenza il livello di protezione dalle sovrattenzioni che lo scaricatore assicura per le apparecchiature a valle questa tensione VA cioè questo livello di protezione deve essere coordinata con le apparecchiature a valle nel senso che deve essere inferiore al loro livello di isolamento proprio per evitare scarica nell'apparecchiatura anche la tensione d'innesco dell'SPD deve essere coordinata con le apparecchiature a valle nel senso che l'innesco dovrà determinarsi solo per sovrattenzioni superiori al loro livello di isolamento ovviamente questo concetto cioè questa esigenza di coordinamento fra il livello di protezione e l'attenzione d'innesco con il livello di isolamento delle apparecchiature protette installate a valle si dovrà attuare per qualunque tipologia di scaricatori e non solo per gli scaricatori spiroenterometrici per i quali è stata illustrata questa esigenza gli scaricatori ad espulsione sono molto usati per la protezione dalle sovrattenzioni nei sistemi in media tensione in particolare nel campo delle tensioni da 3 a 30 kV sono costituiti come è rappresentato in figura dalla connessione in serie di uno spinterometro esterno e uno interno posto entro un tubo isolante rivestito internamente da una speciale sostanza organica vediamo in dettaglio come è costituito allora con uno intendiamo lo spinterometro esterno due invece rappresenta lo spinterometro interno c'è un elettrodo in metallo il numero 3 e c'è poi il tubo di materiale organico 4 mentre 5 rappresenta l'elettrodo di metallo inferiore con 6 è indicato il foro per lo sfogo dei gas vediamo in effetti come funziona quando una sovrattenzione si manifesta ai capi dello scaricatore si ha l'innesco contemporaneo dei due spinterometri quello esterno e quello interno e di conseguenza c'è la messa a terra diretta della linea sotto l'azione del calore sviluppato dall'arco elettrico la sostanza organica che abbiamo indicato con 4 del rivestimento interno del tubo isolante genera una notevole quantità di gas che investendo l'arco lo allunga lo raffredda e di conseguenza lo estingue questo gas può fuoriuscire scaricandosi all'esterno dal foro che abbiamo indicato con 6 che è stato predisposto nell'elettrodo inferiore il 5 è da osservare che il consumo di questa sostanza organica che genera il gas è così ridotto che lo scaricatore può però funzionare efficacemente per molti anni gli scaricatori a resistenza non lineare sono utilizzati in media ed alta tensione e sono più efficienti degli scaricatori ad espulsione ma di costo più elevato sono costituiti dalla serie di uno spinterometro S e da una resistenza R che ha la caratteristica volta amperometrica non lineare la resistenza viene realizzata in materiale ceramico con coefficienti di temperatura negativo e quindi il suo valore diminuisce quando si riscalda quando si manifesta la sovrattenzione che innesca la scarica dello spinterometro S la resistenza diventa piccolissima e la corrente aumenta fortemente secondo la curva che abbiamo indicato con 1 e come si vede in questa curva la tensione in questa fase rimane praticamente costante raggiunto il valore massimo all'estremità della curva 1 la corrente in pochi microsecondi torna ad annullarsi percorrendo percorrendo la curva che abbiamo indicato con 2 si deve notare che nella fase discendente della corrente cioè quindi durante la curva 2 la tensione passa per valori inferiori rispetto ai corrispondenti valori della fase ascendente quella della curva 1 perché la resistenza ceramica che abbiamo detto ha un coefficiente di temperatura negativa è diventata più piccola proprio per il riscaldamento dovuto all'effetto giallo che nel frattempo è intervenuto ad esempio se prendiamo in considerazione una corrente di 4 kA e andiamo in corrispondenza dalla curva 2 fase discendente troviamo una tensione questo valore di tensione la stessa corrente invece nella fase ascendente dava un valore di tensione maggiore questo si può vedere per qualunque valore di corrente a 7 kA corrisponde nella fase discendente questo valore di tensione ma alle stesse 7 kA invece nella fase diciamo 1 ascendente corrispondeva un valore di tensione maggiore alla tensione normale la resistenza diventa elevatissima annullando la corrente come si vede e ripristinando ovviamente l'isolamento del conduttore di linea verso terra oltre alla sua efficienza questo scaricatore presenta il vantaggio che essendo la tensione durante la scarica praticamente costante come abbiamo detto durante appunto la fase ascendente curva 1 e quindi essendo praticamente costante di valore conosciuto risulta agevole effettuare il coordinamento dell'isolamento fra questa tensione diciamo praticamente costante e il livello di isolamento delle apparecchiature protette che sono installate a valle costitivamente lo spinterometro è montato in colonna sopra a numerosi blocchetti ceramici che nell'insieme costituiscono la resistenza R sia lo spinterometro sia questa diciamo colonna di blocchetti ceramici vengono racchiusi entro un supporto isolante avente quindi diciamo la forma come si vede in questa foto di una colonna l'installazione degli scaricatori deve avvenire il più vicino possibile alle apparecchiature da proteggere in figura è indicato come avviene l'inserzione degli scaricatori di sovrattenzione all'ingresso di una linea aerea ad esempio in una cabina di trasformazione con scaricatore S montato all'interno oppure montato all'esterno nelle stazioni di trasformazione e nelle gabine di trasformazione bisogna osservare che le macchine più costose e che risentono particolarmente quindi delle sollecitazioni impulsive causate dalle onde di sovrattenzione sono propri trasformatori per questo motivo la protezione è attuata in funzione di queste macchine e per una protezione efficace gli scaricatori devono quindi essere installati il più vicino possibile ai poli del trasformatore fra i provvedimenti di carattere preventivo contro le sovrattenzioni nonostante l'onore economico che comportano le funi di guardia vengono vantaggiosamente impiegate nelle linee aeree in conduttore nudo in alta tensione i cosiddetti elettrodotti le fori di guardia sono realizzate da uno o due conduttori in corda di acciaio zincato tesati superiormente parallelamente ai conduttori di linea da proteggere e collegati francamente a terra in corrispondenza di tutti o parte dei sostegni questa figura in questa foto si vede la fune di guardia nella parte superiore e sotto ci sono le linee diciamo da proteggere le fune di guardia hanno il compito di attirare su di sé l'induzione elettrostatica e le scariche atmosferiche si comportano in sostanza quindi da parafulmini che scaricano a terra vale per le funi di guardia la cosiddetta regola del cono di protezione cioè affinché i conduttori risultino protetti tra l'asse verticale che passa per la fune e l'asse che congiunge il centro dei conduttori più esterni e il centro della fune stessa non ci deve essere un angolo maggiore di 30 gradi la situazione è schematizzata in questa figura questa è l'asse verticale che passa per la fune e come si vede con gli assi che passano dai centri della fune di guardia e dai conduttori più esterni con questo asse principale non ci devono essere più di 30 gradi il numero delle funi di guardia dipende dal tipo di sostegno per i sostegni a torre come questa la fune di guardia è normalmente unica per i sostegni a Y la fune di guardia le funi di guardia sono due questo sempre è il fine di rispettare questa regola del cono di protezione siamo alla conclusione di questo secondo appuntamento con le sovrattenzioni nel terzo ed ultimo video dedicato ad esse ci riferiremo in particolare alla protezione realizzata con SPD nei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione per adesso affido il mio ringraziamento per l'attenzione e il mio saluto a Zucchero che esegue una canzone che è un vero gioiello non a caso si intitola Diamante subito dopo la simpatica curiosità presentata da Cinzia che è Grazie a tutti. 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 Modugno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.